Buon primo maggio a chi ha perso il lavoro, buon primo maggio a tutti i precari, buon primo maggio a chi non ha mai avuto un lavoro, buon primo maggio a tutti i ricercatori che sono costretti ad emigrare per trovare un lavoro, buon primo maggio agli sfruttati, buon primo maggio a chi purtroppo con la pandemia ha perso il lavoro e ha perso la vita, buon primo maggio a tutti i vigili del fuoco con l'auspicio che con l'apertura contrattuale si possa avere finalmente il riconoscimento delle malattie professionali e si possa avere quella previdenza complementare che permetta di avere una pensione dignitosa ai vigili del fuoco. Buon primo maggio a tutti i vigili del fuoco italiani da parte di Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale USB Vigili del Fuoco Sicilia. Buon primo maggio a tutti i vigili del fuoco italiani da parte di Carmelo Barbagallo, buon primo maggio a tutti i vigili del fuoco italiani da parte di Carmelo Barbagallo.